Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi la storia di un soggettone, ma davvero, io non conoscevo questa storia e quando l'ho scoperta ho pensato, è ai limiti della realtà. Ci sono proprio delle cose assurde in questo caso e quindi ho deciso di portarvelo. Tra l'altro, fatemi sapere se conoscevate questo serial, sono curiosa. Detto questo, iniziamo subito. Pedro Rodríguez' figlio, detto Pedrinho, nasce nel 1954 in una fattoria nel sud del Brasile. È un'area molto povera, con molta criminalità. Il bambino nasce con il cranio deforme a causa delle violenze che suo padre, Pedro Senior, esercita sulla madre, Manuela, nel periodo della gravidanza. Queste brutalità su Manuela durante il delicato periodo della gravidanza portano problemi fisici a tutti i figli della coppia, che sono nove. La famiglia di Pedrinho non è ricca, ma neanche estremamente povera. Non soffrono la fame grazie alla piccola fattoria di proprietà. Hanno qualche animale, ma la tenuta non produce abbastanza per generare un profitto. Ne consegue che tutti sono obbligati a lavorare sia in fattoria che fuori. Il padre lavora come guardia notturna, ma viene licenziato perché si presenta più volte ubriaco a lavoro. Dopo un periodo di disoccupazione, l'uomo viene assunto sempre come guardia presso una scuola pubblica. Molte persone della zona, compresa la madre di Pedrinho, sono molto religiose. Pedrinho la accompagna in chiesa tutte le volte che può, ma non capisce mai quello che dice il parroco e spesso si addormenta, guadagnandosi una bastonata. La donna, oltre ad essere religiosa, è violenta con i figli e, per metterli in riga, li picchia. L'infanzia di Pedrinho è sicuramente triste e il ragazzino si affeziona molto ai suoi nonni. Il nonno gli insegna a nuotare, piantare verdure e raccoglierle, a cacciare e a difendersi. Porta il ragazzo a lavorare con lui alla macelleria, dove gli insegna a maneggiare un coltello e a tirare il collo ai polli. In qualità di figlio maggiore, Pedrinho si sente in dovere di provvedere ai più piccoli. Tutti i ragazzi della zona lavorano prima o dopo la scuola, oppure non frequentano la scuola per aiutare le famiglie. Pedrinho, prima dei dieci anni, uccide scimmie selvatiche per le loro pellicce e la loro carne e pesca per aiutare a sfamare la sua famiglia. Quando raggiunge i 13 anni, inizia a lavorare in un macello di polli, mettendo a frutto alcune delle abilità apprese dal nonno. Diventa un adolescente robusto, seppur più piccolo rispetto alla maggior parte dei ragazzi della sua età. Ciò che gli manca in statura lo compensa con una determinazione d'acciaio e la mancanza totale di paura. La caratteristica di gran lunga più distintiva di Pedrinho è il suo senso di equità e il profondo risentimento per l'ingiustizia, specialmente quando quell'ingiustizia è diretta a lui o ai suoi cari. Nella fattoria però non abita solo Pedrinho con la sua famiglia, ma anche i suoi cugini. Un giorno, nel 1967, il cugino maggiore di Pedrinho, che aveva un cavallo, lo accusa pubblicamente di aver cavalcato il suo animale senza permesso. I due arrivano alle mani e Pedrinho riceve un pugno in faccia. Considerando che questo pestaggio è avvenuto davanti a tutti nella fattoria, Pedrinho giura che lo ucciderà. Suo cugino, più grande e grosso, si limita a ridere e lo colpisce di nuovo. La consueta voglia di rivincita sgorga dentro Pedrinho, ma questa volta c'è di più. Sente di non aver fatto nulla di male e la reazione del cugino adulto è eccessiva e ingiusta nei suoi confronti. Pedrinho vede suo cugino molte volte dopo questa ingiustizia, ma non riceve mai delle scuse ufficiali. Quando anche altri membri della famiglia vengono a sapere dell'accaduto, deridono il ragazzo, dandogli del debole. A questo punto Pedrinho cambia lavoro e grazie al nonno inizia a lavorare in una raffineria di zucchero. Gli standard di sicurezza applicati ai macchinari pesanti e alle attrezzature necessarie per il lavoro sono ben pochi. Un giorno Pedrinho sta lavorando con suo cugino. I due sono responsabili delle presse per la canna da zucchero. Il ragazzo a questo punto capisce che è arrivato il suo momento, può finalmente vendicarsi di suo cugino per l'umiliazione ricevuta. Così lo spinge verso i rulli della pressa, ma ciullandogli completamente un braccio. L'obiettivo è infilare tutto il corpo del cugino nella pressa, prova anche a spingergli la testa verso i rulli, ma non riesce. Quindi prende un paio di forbici da potatura e inizia ad accoltellarlo. Gli operai che sentono le urla danno l'allarme e poco dopo interviene il nonno dei ragazzi, che spegne la macchina. Pedrinho, a causa di quanto accaduto, è costretto a trascorrere un paio di notti in prigione, ma la sua famiglia ha bisogno che torni al lavoro. Suo nonno va quindi alla stazione di polizia e spiega che la famiglia non vuole sporgere denuncia perché Pedrinho è minorenne. Il ragazzo dunque viene liberato. Suo nonno però lo punisce, costringendolo a pulire la pressa dal sangue e dalla carne di suo cugino. L'incidente in effetti ha stuzzicato in Pedrinho il piacere della vendetta. Ora vuole sapere cosa si prova a uccidere qualcuno. Il ragazzo in ogni caso è felice perché ora finalmente i cugini lo rispettano e non si prendono più gioco di lui. A poca distanza dalla vendetta, se così vogliamo chiamarla, nei confronti del cugino, il padre di Pedrinho viene licenziato, accusato di aver rubato del cibo dalla mensa e della cancelleria dalla scuola durante le sue ronde, dalle 18 alle 6 del mattino. Pedro Senior giura ai suoi datori di lavoro di essere innocente, ma le sue suppliche cadono nel vuoto. Viene licenziato e marchiato come ladro, il che significa che non avrebbe mai ottenuto un altro lavoro come guardia di sicurezza. L'uomo ormai disoccupato non può provvedere alla famiglia, che deve arrangiarsi con i soldi che Emanuela guadagna facendo la domestica e la lavandaia nelle case dei più abbienti. Pedro Senior ha lavorato alla scuola per ben 12 anni e la persona che ha il potere di assumere e licenziare le guardie della scuola è proprio il sindaco. Così Pedrinho prova ad andare a parlare col sindaco, che però lo caccia malamente. La familiare sensazione di vendetta si fa di nuovo strada nel giovane. Pedrinho va nel capannone dove suo nonno tiene le armi da fuoco, prende un fucile, delle munizioni e aspetta il momento giusto per agire. Il sindaco deve fare un'apparizione pubblica ed è in quella occasione che Pedrinho si nasconde tra la folla e gli spara. Poi scappa e la fa franca perché nessuno lo ha visto. Pedrinho Rodriguez figlio ha ucciso un uomo che aveva fatto del male alla sua famiglia. Quando Pedrinho uccideva polli e scimmie non provava mai niente, nessuna compassione, nessuna empatia, solo indifferenza. Ma in questo caso è diverso. Si sente nel giusto, trova piacere. Pedrinho è un vendicatore ed è pronto a riscattare i torti fatti a lui e ai suoi cari. Un mese dopo Pedrinho si reca alla scuola dove prima lavorava il padre. Il ragazzo è certo che il vero ladro è il guardiano di urno. Quando lo trova, gli punta contro una pistola e lo fa sedere su una sedia. Poi gli spiega il motivo per cui gli sta puntando contro un'arma. Ha denunciato suo padre, facendolo licenziare per qualcosa che non aveva fatto. Era stato il guardiano di urno ad aver rubato a scuola. L'uomo inizia a singhiozzare e chiede che gli venga risparmiata la vita. Ma Pedrinho gli spara. Dopodiché ammucchia attorno al corpo, mobili e scatole del magazzino, dà fuoco a tutto e fugge. In questo periodo Pedrinho incontra una donna chiamata Botigna nella comunità locale. È la vedova di un noto narcisificante gangster. E, in assenza del marito, è proprio lei che gestisce il cartello. I due ben presto iniziano una relazione e Pedrinho viene assunto e comincia a lavorare come corriere di sostanze. Gli altri membri dell'organizzazione criminale, però, non prendono molto bene questa situazione. Prima di tutto, perché Pedrinho è piccolo. Ma soprattutto sono gelose del fatto che un ragazzino così giovane va a letto con il loro capo. Un giorno, cinque ragazzi poco più grandi di Pedrinho, che fanno parte dell'organizzazione criminale, lo invitano ad una specie di campeggio in mezzo ai boschi. E il giovane accetta. Però, quando sono tutti insieme, si rende conto che quei ragazzi lo vogliono picchiare. E, in effetti, lo accerchiano e provano ad aggredirlo. Pedrinho, però, tira fuori la pistola e ha la prontezza di ucciderne due e di ferire gli altri tre. Così riesce a guadagnarsi il rispetto del resto della gang. Nello stesso periodo inizia a collaborare con un altro trafficante di sostanze, detto Ilcina. Ma c'è un problema. Pedrinho e Ilcina non si stanno particolarmente simpatici. Pedrinho dice, infatti, alla sua gang che Ilcina è una persona scorretta e inaffidabile. Non crede sia una buona idea farlo collaborare con Botigna. Decide che l'unica cosa saggia da fare è rubare al Cina tutta la merce e le sue armi per rivenderle a un altro corriere di sostanze che però rispetta. Però, ahimè, lui e la sua gang vengono beccati durante il furto dal gruppo del Cina. Alcuni ragazzi riescono a scappare e riescono a ferire sia il Cina che alcuni scagnozzi. Ma non riescono a portare a termine il colpo. Quindi Pedrinho si ritrova in una situazione alquanto brutta. Le gang rivali lo cercano per ucciderlo, ma anche la polizia ormai è sulle sue tracce. Inizia così a nascondersi, dorme in auto, nei cimiteri, nelle chiese. Questa situazione volge al termine quando la polizia brasiliana uccide Botigna durante uno scambio di merce. Nel corso della sparatoria viene ferito anche Pedrinho. Turbato dalla morte di una delle poche persone a cui tiene e in pessime condizioni fisiche, il ragazzo corre a rifugiarsi dagli zii. Arrivato a casa loro, Pedrinho fa una richiesta. Vuole che eseguano un rituale che protegga il suo corpo dai nemici. I parenti che accolgono il ragazzo sono infatti praticanti del condomble, una religione considerata da alcuni stregoneria o magia nera. Il rituale prevede offerte spirituali, danze cerimoniali e sacrifici di animali. Pedrinho crede che grazie alla fede gli spiriti lo proteggano dai suoi nemici. Il rituale è composto da più passaggi. Pedrinho deve uccidere un gatto e berne il sangue. Deve poi essere ricoperto dal restante sangue e dalle viscere dell'animale. Infine la carcassa va riempita di semi e il ragazzo deve seppellirla. Una settimana esatta dopo Pedrinho torna sul posto di sotterra la carcassa del gatto e rimuove i semi. Lo zio infila questi semi in una piccola corda che mette intorno al collo di Pedrinho, avvertendolo di non togliersi mai la collana. È proprio quella collana a renderlo invincibile. Il ragazzo dunque decide di usare questa sua invincibilità per combattere le ingiustizie. Blocca i camion pieni di cibo e li porta nei bassi fondi per nutrire gli affamati. Brucia le botteghe di quelli che truffano i poveri e difende l'onore delle donne, uccidendo gli uomini che le hanno ingannate o hanno fatto loro del male. Pedrinho ha 16 anni ed è invincibile. Dato che in questo momento il giovane sta davvero aiutando i più deboli, la maggior parte della gente lo protegge. Quindi la polizia, nonostante indaghi e faccia domande, non riceve mai informazioni utili. Passa un po' di tempo e Pedrinho decide di iniziare a rubare le sostanze ai trafficanti per poi rivenderle. In questo periodo incontra e si innamora di una ragazza di nome Maria Olimpia. Quando Maria rimane incinta del suo bambino, Pedrinho si trasferisce con lei in una modesta baracca, continuando con la sua carriera. In pratica ruba i ricchi per dare ai poveri, ruba i trafficanti cattivi per vendere la merce ai giusti. Crede di essere un giustiziere, quindi giustifica i suoi crimini come legalmente sbagliati ma moralmente corretti. Resta però il fatto che Pedrinho non è amato da tutti. Rischia spesso la vita. E ora che l'amata porta in grembo il suo figlio, decide di assumere delle guardie del corpo per proteggerla quando lui non c'è. Un giorno Maria è a casa sorvegliata dalle guardie del corpo, mentre Pedrinho è in giro. Quando torna trova le due guardie morte. Maria è a terra in un lago di sangue con la pancia squartata. Il figlio di sette mesi è accanto al suo corpo senza vita. Su un muro spicca una scritta fatta col sangue che recita «Tu sarai il prossimo». Chiaramente Pedrinho giura che rintraccerà l'assassino per vendicarsi. Per più di un anno va in giro a torturare tutti i suoi nemici per trovare il colpevole. Un giorno una donna si mette in contatto con lui, è l'ex moglie del Cina. La donna quindi che fa? Gli confida di averlo lasciato perché è violentissimo. Per dimostrare che gli sta dicendo la verità gli mostra parecchi lividi chi ha sul corpo. E gli confida che è stato proprio il Cina a uccidere Maria. La vendicativa ex moglie del Cina rivela a Pedrinho che il fratello di Cina si sarebbe sposato il sabato successivo. Pedrinho dunque recluta degli scagnozzi e illustra il suo piano. Sarebbero tutti andati al matrimonio e i suoi scagnozzi avrebbero dovuto uccidere tutti. A eccezione di donne o bambini. Il ragazzo è molto chiaro al riguardo. Loro non devono riportare neanche mezza ferita. Il gruppo dunque arriva durante il ricevimento. Armato di tutto punto e il Cina viene freddato immediatamente dal momento che si trova al centro della stanza. Ovviamente non è finita qui perché uccidono sette uomini e ne feriscono gravemente altri sedici. Nel frattempo chiaramente le donne sono fuggite con i bambini urlando. Prima di andarsene Pedrinho e il suo gruppo fanno un brindisi. Il colpo è riuscito e non sono state ferite né donne né bambini. La notizia di queste nozze di sangue si diffonde. Tutti sanno che è il colpevole Pedrinho, quindi i giornali iniziano a chiamarlo Pedrinho Matador, ossia Pedrinho l'assassino. A questo punto Pedrinho inizia a frequentare una coppia di gemelle. Ama la sua notorietà, adora che i giornali parlino di lui. Gli piace la paura che la sua presenza provoca per strada o nel momento in cui entra in un edificio. Ha lavorato per assicurarsi che i criminali avessero più paura di lui che della polizia. E anche i giornali parlano di Pedrinho. È famoso e quando fa danni, insomma, lì fa grossi come uccidere sei persone durante un matrimonio. E la polizia a questo punto lo cerca seriamente. Un giorno ricevono una soffiata dal padre delle gemelle con cui il ragazzo sta intrattenendo una relazione. Sì, Pedrinho era fidanzato con due gemelle. Pedrinho è in un bar. Il 24 maggio 1973 la polizia irrompe nel bar. Pedrinho viene ferito e perde i sensi. Si risveglia ammanetato all'ospedale. Viene tenuto sotto stretta sorveglianza fino alla sua guarigione e poi trasferito in carcere. L'accusa è di 18 omicidi, ma Pedrinho afferma immediatamente che i calcoli sono errati. Lui, come minimo, ha fatto fuori un centinaio di persone. Alla fine è condannato per soli 14 omicidi, ricevendo una condanna a 126 anni di carcere. Chiaramente la storia non finisce qui. Durante il trasferimento di Pedrinho alla prigione viene fatto salire sul furgoncino della polizia penitenziaria, ma non viene trasferito da solo. Con lui c'è un altro detenuto. Giunti a destinazione, al momento di far scendere i prigionieri, i poliziotti trovano una sola persona viva, ossia Pedrinho. Ma perché l'altro uomo è stato ucciso? Perché era stato condannato per violenza intima. E Pedrinho uccide tutti coloro che fanno del male a donne e bambini. Le prigioni brasiliane hanno un grave problema di sovraffollamento, quindi in una sola cella ci sono diversi incarcerati. Pedrinho, di conseguenza, è a contatto con parecchi detenuti e ci sono poche guardie rispetto ai prigionieri, quindi spesso si verificano delle rivolte. La guerra tra bande carcerarie mette l'uno contro l'altro criminale di diverse città e le battaglie che avvengono spesso finiscono con la decapitazione o lo sventramento dei prigionieri per una dimostrazione di potere. In questo ambiente però Pedrinho viene lasciato stare perché tutti lo temono, ma nello stesso carcere ci sono anche molti suoi nemici. Infatti, dopo poco tempo, viene aggredito da cinque detenuti e, pensate, pensate un po', riesce a ucciderne tre e a ferirne gravemente due. Ma Pedrinho, io a questo punto mi sono chiesta, chi cavolo è Terminator? È assurdo! È assurdo! Lui è sempre da solo, lo attaccano sempre in gruppo e lui li ammazza o li ferisce gravemente. È assurdo! È una macchina da guerra questo uomo! Ovviamente da questo momento nessuno prova più ad attaccarlo, quindi deve trovare dei modi per passare il tempo. Si allena nelle arti marziali e impara a leggere. Non disdegna di fare qualche omicidio su commissione in carcere se qualcuno glielo chiede. Spesso lo vanno a trovare sua mamma e sua nonna, ma suo padre no, non lo va a trovare mai. Pedrinho infatti non ha un buon rapporto con suo padre, è un uomo violento e spesso colpiva anche sua madre. Arriva però un giorno in cui Pedrinho sta aspettando la madre e la nonna, ma viene chiamato dal direttore del carcere, il quale gli riferisce che suo padre ha ucciso sua madre con 21 colpi di macete. La rabbia di Pedrinho è quasi incontenibile e il direttore a dirla tutta è terrorizzato da lui, quindi, diciamo, per farlo calmare, gli comunica che se vuole ha la possibilità di uscire per partecipare al funerale. Il ragazzo assiste alla cerimonia funebre e a dirla tutta si comporta bene, ma c'è un motivo. Il padre è stato arrestato e dunque non è presente, ma dopo essersi avvicinato alla barra della madre per un ultimo saluto, giura solennemente vendetta. Poi torna dietro le sbarre. Dopo qualche giorno riceve un'altra visita. Lo va a trovare la zia, ossia la sorella di suo padre. La donna gli porta una torta come segno di pace e cerca in qualche modo di spiegare cosa è successo. Al momento dell'omicidio suo padre era talmente ubriaco che non sapeva neanche cosa stesse facendo. Tutti i parenti sono in lutto e molto dispiaciuti. La zia ovviamente chiede a Pedrinho di non prendersela con loro. E il ragazzo a dirla tutta la rassicura. Non vuole far del male ai parenti di suo padre, ma solo a suo padre. Dunque terminata la visita, Pedrinho torna in cella e si ritrova con questa torta regalata dalla zia. Lui però non ha voglia di mangiare perché è nervoso e quindi ha lo stomaco chiuso. Decide quindi di distribuirla ai detenuti con cui ha fatto amicizia. Indovinate? Nel giro di qualche ora tutti quelli che hanno mangiato la torta iniziano ad avere forti crampi, nausea e vomitano. Pedrinho quindi deduce che la zia gli ha portato una torta avvelenata. Ma il ragazzo viene sospettato di essere stato lui ad aver avvelenato la torta, quindi viene punito con il trasferimento in un'altra prigione. Quella in cui si trova il padre. Pedrinho però viene messo in un'altra sezione, tecnicamente non può avere contatti col padre. Il ragazzo però, se ricordate, ha giurato vendetta per la morte della madre. Di conseguenza cerca immediatamente un modo per entrare in contatto con l'uomo. Quindi cosa fa Pedrinho? Finge di stare male e viene portato in infermeria da una guardia carceraria che riesce a disarmare e a chiudere in una cella. Con la pistola della guardia riesce ad arrivare nella sezione del padre. arrivato alla cella, mette via la pistola, estrae un coltello e sferra all'uomo 22 coltellate, gli strappa il cuore dal petto e sputa sul cadavere. Poi tranquillamente saluta tutti e torna dalla guardia. La libera e si fa portare tranquillamente nella sua sezione. A questo punto, dal momento che Pedrinho non è di certo diventato più mansueto in carcere, lo processano di nuovo e lo condannano a 400 anni per 71 omicidi. Pedrinho vede degli psichiatri che lo dichiarano psicopatico, paranoide, con personalità antisociale e bisogno di autoaffermazione tramite la violenza. Il ragazzo in realtà si ritiene un giustiziere e indirizza la sua rabbia soltanto a chi ritiene essere malvagio. È narcisista in quanto ritiene di essere colui che decide chi vive e chi muore. Viene infatti rinominato lo psicopatico perfetto. Quindi ogni volta che Pedrinho commette troppi omicidi in carcere, viene trasferito. Nel corso della sua vita cambierà nove carceri. Intanto Pedrinho riceve tantissime lettere da donne che sono attratte da lui, tanto che un giorno si fidanza via lettera con una donna che inizia anche ad andarlo a trovare in carcere. Un giorno, mentre la ragazza è in carcere per incontrarlo, scoppia una delle tante rivolte. I detenuti rubano le armi alle guardie e iniziano a sparare. Pedrinho ne approfitta dicendo alla donna che, visto l'enorme trambusto, possono approfittarne per avere il loro primo rapporto intimo. Arriviamo al 1985, quando Pedrinho viene trasferito in un istituto psichiatrico criminale, dove viene messo in isolamento. L'uomo a questo punto promette di non commettere più omicidi. Incredibilmente in isolamento non uccide davvero più nessuno, quindi dieci anni dopo, nel 1995, viene dichiarato guarito. Non ci arrivano proprio a pensare che l'uomo non avesse ucciso nessuno per dieci anni solo perché non aveva nessuno da uccidere. Visto che era in isolamento, sotto stretta sorveglianza, in ogni caso lo ritrasferiscono in una prigione tradizionale. E in effetti Pedrinho non uccide più nessuno. Perché? Perché Pedrinho stesso sostiene di essere un uomo di parola. Ha promesso di non uccidere più e ha mantenuto fede alla sua promessa. Arriviamo all'inizio degli anni 2000, quando le autorità brasiliane si riuniscono per discutere di un bel problema. L'articolo 5 della Costituzione brasiliana prevede che nessuno in Brasile può essere condannato al carcere a vita. Il codice penale brasiliano, creato quando l'aspettativa di vita in Brasile era di 43 anni e mai aggiornato, fissa la pena detentiva massima che può essere scontata per qualsiasi individuo a 30 anni, per tutti i crimini che ha commesso, indipendentemente dalla pena che gli è stata data. La regola dei 30 anni in Brasile significa che, a meno che non muoiano prima della scadenza della pena, tutti i detenuti verranno rilasciati. Così Pedrinho Matador, condannato a 400 anni cumulativi, diventa idoneo alla libertà condizionale nel 2003. Esce di prigione il 24 aprile del 2007, dopo aver scontato 34 anni di carcere. Chiaramente si trasferisce lontano dalla zona in cui ha sempre vissuto, in un piccolo villaggio, e compra un cottage rosa immerso nel verde e un labrador. Ovviamente ci mette un po' ad ambientarsi, tutto gli è completamente estraneo, e in effetti deve chiedere aiuto per fare qualsiasi cosa. Non ha idea di come si prenda un treno, gli edifici sono giganteschi, ha l'impressione che siano spuntati dal nulla. La tecnologia e i macchinari delle fattorie sono completamente diversi da quelle in uso prima che venisse incarcerato. Sebbene avesse visto molti telefoni cellulari introdotti clandestinamente nella prigione nel corso degli anni, internet è un mistero per lui. Nonostante Pedrinho viva una vita idilliaca, le autorità non sono troppo contente che sia uscito di galera. Si è dato una bella calmata, sì, ma sostengono che sia comunque pericoloso. Quindi lo arrestano con l'accusa di aver partecipato a sei rivolte carcerarie. Potremmo pensare che Pedrinho metta da parte il suo lato più tranquillo per scappare, invece si limita ad affidare il suo labrador al vicino di casa e si fa arrestare, senza opporre resistenza. Mentre è in prigione, nel 2012 viene intervistato per un documentario internazionale e lo paragonano a Dexter. Pedrinho non ha idea di chi sia Dexter, quindi gli spiegano la trama di questa serie tv. L'uomo, dopo il racconto, si dichiara felice di questo confronto perché si sente proprio come Dexter. Nel 2017 Pedrinho viene rilasciato e inizia a fare video su YouTube e Facebook. In pratica diventa una web star. Parla di true crime, di ricette e di Gesù. È una vera celebrità. In questo periodo un polizzotto lo ferma per strada per stringergli la mano e congratularsi con lui. È davvero forse il primo serial superstar. Crede di essere la prova che gli psicopatici possono essere curati. Ad un giornalista nel 2019 afferma In questo mondo dove siamo adesso non sto togliendo la vita a nessuno. Sono guarito. L'intervista della durata di un'ora cerca di trovare un certo grado di umanità e pentimento in Pedrinho che però rimane impassibile per tutto il tempo. Quest'uomo è uno psicopatico che non prova rimorso. Insomma, Pedrinho vorrebbe pentirsi per tutti i suoi crimini ma proprio non ci riesce. Dice infatti al giornalista Non me ne pento perché le persone che ho ucciso non valevano nulla. Le persone che ho ucciso non valevano nemmeno il cibo che mangiavano. Se non li avessi uccisi mi avrebbero ucciso loro e avrebbero ucciso persone che non meritavano di morire. Il giornalista quindi gli chiede Qualche volta provi la tentazione o la voglia di uccidere? Pedrinho risponde Sì, ma svanisce. Arriviamo al 5 marzo 2023, quindi poco tempo fa. Pedrinho muore fuori da un bar, vittima di una sparatoria. Detto questo io ho finito di parlare in questo video e mai come ora sono curiosissima di sapere le vostre opinioni. Io ho trovato questa storia incredibile, davvero incredibile. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io come al solito vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.